Allora, benvenuti ragazzi in questo nuovo gameplay di GTA V come vedete adesso noi siamo qui con Franklin e stiamo per affrontare una missione della storia con Franklin però mi sa che dovremmo farla con Michael, adesso non ricordo, adesso vediamo subito Oh, chi è peggio a mangiare questa macchina qua? Oh madonna, che dici questo? Da Kenny? Vabbè comunque, adesso dobbiamo entrare, entra e entra nella casa Che nome che viene? Ah bella questa! E non me la ricordo più E' quello di sfrugge la carta del compito di vista dell'allenatore Dennis Ah, ho capito, ho capito, ho capito Vai, vai, sale i discorsi Signi che devi trainarla via Ho capito Allora, come vedete c'è il puntino rossa sulla mappa che è il nostro nemico, praticamente il nemico il messo di tennis da inseguire con la macchina rossa credo che vedono Ehm, ai franti per usare la nostra, la sua responsabilità No, lo sto usando Michael Ok, lo non puoi Ehm... 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 Stiamo inseguendo E poi credo che dovremmo distruggli la casa Vabbè, poi vedremo Poi vedremo dopo Il pilastro Ma poi mi sembra che la casa di questo mappa di tennis diventa... Ah, adesso lo vediamo Ma vaffanculo, tocco di merda Adesso lo vediamo Cerchiamo di inseguire Adesso lo vediamo con un kick-up 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 di merda Ok, raggiungi il canyon Lui se ne è andato a casa sua Se ne è scappato a casa sua Se ne è scappato a casa sua Ah... Manca poco Circo 3 secondi di distrazione E' arrivato a casa sua E' una missione... Credo... Da qualche mio ricordo è abbastanza... Si E' facile E' facile No No O nella riportatura Comunque Vai 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 Questa poi diventa cosa di Franklin Si guardi, si O quelli di fianco non solo Vabbè Vai vai in quel punto Oh... Non lo siamo arrivati Ok Abbiamo agganciato praticamente La macchina A pilastri della casa Adesso Traineremo tutto La casa farà una brutta fila DISTRUZIONE TOTALE Ok, come vedete comincia a cedere Oh shit Scusate 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 Ok Ok, sta cedendo su tutto Vedete I pilastri Stanno Lentamente Cede I pilastri Sono dei tubini di ferro Tipo 12mm Ok, la casa è andata Il uomo qui c'è dentro pure Mi raccomando Le tecole Ci vieni tutte Belle e gorgine Non so Che deve Cattare Yeah 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 fucking Yeah fucking 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 Motherfuck Allora adesso non fa del mio Mi sa che ritornare No Michael Adesso vediamo Dai sai chi è Michael No Mitico zombie Dai Vabbè Non c'era bisogno Non c'era uscire mai Passando quello di qua Forse si A meno che non fai una copia Tipo Woo Guarda a casa di Michael Hai cattato una persona Ma Ero un bidone Ero un bidone Poverino I bidoni non hanno diventato Ah Mister Sì Sì Allora Ci siamo quasi Eh La casetta di Michael è qua vicino Ma Oddio Attenti Devi far secchi quelli la eh Quei puntini rossi li vedi Devi ucciderli Prendi le bombe Prendi le bombe Prendi le bombe Pazzamico Scendi Scendi dalla macchina Scendi 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 Riparati Simila agli uomini No 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 fai li secchi Fai li secchi No non seminarli Uccidi Non seminarli Nigga 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 Attenti sono là Sono là Sono là Sono suoi al pick up So dietro C'è ancora una Unutila Unutila c'era già aperto con il disco che atti orrendi oh è aperta oh jesus guarda quello è ancora vivo ma cattalo ah no è manco quello è ancora vivo cattalo ok carino ok ci siamo quasi ok ci siamo quasi bene bene ok la missione dovrebbe essere finita perchè la missione è molto corta adesso avevano questi cogli e me ne erano mai sai chi sei tu sei qui tu sei qui tu sei qui io credo io conosco chi sei io conosco chi sei io sono frank ma non ha guidato invece sei ora frank bb chi sei io credo martin martin ok ragazzi come vedete la missione è completata la medaglia di argento 57% e vabbè questa missione è stata un po' corta però comunque sia no no dai si vede dai si vede dai si vede dai 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 ora i i un i i ho i ho io ok ok, la sessione è finita è apparso nata sulla mappa la L di Leicester per oggi ragazzi è tutto voglio fare una cosa per salutarvi ben bene stai zitto, non fare lo spoiler ma qua non c'è niente non so se c'è la gru stai zitto, ma se adesso la vedo no, no ah, picchie le picchie lì lascia, lascia gli start se no arriva la polizia aspetta, vediamo se c'è no, c'è solo la pistola ma che schifo dobbiamo migliorare l'aromamentario faremo telecamere dai, tieni il promotore ti lo promoto, ti lo promoto e basta vuoi vedere quanto mi manca fino alla fine? oh no, il tunnel, mi sta avvicinando un poco nero ah, so, so, so oh no, la, 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 la ma te lo totto scadino una volta eh? ma te lo totto scadino c'era un bug una volta che si metteva le mani in mezzo è vero faceva intanto saliva magicamente era Franklin ti conviene non salire di più e lanciarti giù per di qua no ma di più è brutto perché c'è solo il gradino guarda eh no guarda cosa fisi che faccio si può basta andare dall'altra parte basta andare dall'altra parte ecco ti conviene salire fino qua perché su c'è solamente un tipo ho detto di stare dritto ragazzi per questo episodio è tutto lasciate un commento iscrivetevi fate quello che volete dite di tutto dai giochi mixati è tutto bella raga ci vediamo alla prossima volta grazie 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 grazie